La guida sotto l'effetto di alcol e droghe rappresenta una delle cause principali di incidenti stradali e decessi soprattutto tra i giovani. I dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza registrano un costante aumento rispetto agli anni precedenti e in considerazione di questa emergenza il questore di Enna ha disposto tutta una serie di controlli da espletare in tutta la provincia ennese. Durante l'ultimo weekend pattuglie dell'ufficio volanti della Questura e della Polizia Stradale di Enna hanno effettuato una serie di controlli nel comune capoluogo congiuntamente al personale del locale ufficio sanitario provinciale che a bordo di unità mobile alla presenza del medico della Polizia di Stato hanno verificato la concentrazione di alcol espirata dai conducenti dei veicoli e mediante l'utilizzo del drogometro in dotazione all'ufficio sanitario hanno riscontrato se i conducenti fossero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso l'esame della saliva. In totale sono stati controllati 73 veicoli e 91 persone e tra queste due sono risultate in stato di ebrezza alcolica e una positiva all'uso di sostanze stupefacenti. Le sanzioni previste hanno comportato l'immediato ritiro della patente di guida e importanti sanzioni amministrative. I controlli finalizzati a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone proseguiranno anche nelle settimane a venire al fine di cercare di porre un freno a un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade.